Dimmi cosa tu mangi e ti dirò chi sei, perché in fondo ciascuno di noi diventa quello di cui si nutre, quello di cui desidera alimentarsi ogni giorno. Potessimo ciascuno di noi essere come il profeta Ezechiele, che si mangia il rotolo del libro, che si ciba della parola di Dio, ed è questo nutrirci della parola che ci porta a pensare, a ragionare, a scegliere, non secondo i parametri del mondo, ma secondo i parametri del Regno dei Cieli, che ci portano a vedere che l'uomo compiuto, l'uomo vero, l'uomo che porta a pienezza la sua vita, non è l'uomo forte, non è l'uomo che si difente, non è l'uomo che cerca di prendere il massimo della vita perché bisogna affermarsi, no, è il bambino, è l'indifeso, è la pecorella smarita, perché in fondo tutti ci troviamo nella vita a sbattere sempre, a sperimentare la nostra fragilità, ma in quel momento che sperimentiamo il nostro essere figli di Dio, in quel momento che sperimentiamo che ci avvolge un amore folle del Padre che ci sostiene, che ci cerca, che dà il suo figlio amato, che il Signore ci doni di non avere paura di essere piccoli, perché quanto si è piccoli si è avvolti di un amore grandioso come quello di Dio Padre. Buon amissio.